Buon pomeriggio e ben ritrovati in diretta con l'informazione di Udinese TV. In apertura la cronaca e il cadavere ritrovato questo pomeriggio dai vigili del fuoco di Gorizia lungo le rive del Lisonzo. Attorno alle 11 sono intervenuti con un gommone lungo il fiume per il recupero del cadavere di un uomo. Il corpo senza vita è stato segnalato da alcuni passanti che hanno avvisato subito i carabinieri. Dopo l'allerta i pompieri risontini hanno raggiunto il punto di avvistamento. Informato subito il magistrato di turno, il corpo è stato portato a riva e composto nella cella mortuaria a disposizione dell'autorità giudiziaria. In avanzato stato di decomposizione sarà necessario un esame esterno per cercare di capire di chi si tratti. L'area in cui hanno operato i vigili del fuoco è quella compresa tra la ponte 19 agosto e la zona Safok a Gorizia. Molti hanno pensato alla persona scomparsa proprio dal capoluogo esontino 20 giorni fa, ma non c'è ancora alcuna certezza al momento fino a quando appunto non verranno portati avanti gli esami autottici. Sono in corso invece ancora a Cividale le ricerche per un anziano avvocato dato per disperso. Si tratta di Giovanni Fantino, 83 anni, molto noto nella città ducale. Questa è una delle sue immagini scomparso dopo essere uscito dalla sua abitazione nella giornata di ieri. L'anziano che vive da solo con il supporto di una persona che lo aiuta nelle faccende domestiche non soffre di particolari problemi di salute salvo qualche momento di smarrimento. Il timore è che possa trovarsi in stato confusionale. L'allarme è stato lanciato dal figlio che è riuscito a mettersi in contatto telefonico con lui attorno alle 13.30 di ieri. L'ultimo avvistamento risale invece alle 8.30 di ieri mattina. Un testimone lo ha notato nella zona del centro studi cividalese. Le ricerche si sono inizialmente concentrate nei luoghi solitamente frequentati dall'anziano. Poi in serata ieri è stato attivato il piano provinciale delle ricerche che vengono ora impegnati i carabinieri di Cividale, i vigili del fuoco e la protezione civile. Le ricerche sono in corso anche con la presenza di sei unità cinofile, quattro della protezione civile e due dei vigili del fuoco e il supporto aereo dell'elicottero dei vigili del fuoco alzato simbolo stamattina da Mestre. Grave incidente stradale stamattina lungo la strada che porta a San Leonardo Valcellina. Dopo le 11 sulla regionale 251 nei pressi del distributore Tamoil sono rimaste coinvolte una BMW, il suo conducente, un uomo residente a Malnisio. Per causa in corso d'accertamento il veicolo diretto a Montereale ha urtato il ponticello d'ingresso alla stazione di servizio rovesciandosi e sbalzando all'esterno il guidatore. I primi a giungere sul posto ai vigili del fuoco che stavano percorrendo in direzione inversa alla strada e si sono ritrovati l'uomo in stato confusionale con evidenti fratture e contusioni varie adagiato nel fossato sotto una fitta pioggia. Dopo aver attivato i soccorsi gli stessi hanno messo in atto le procedure di primo intervento in attesa dell'arrivo dei sanitari. Sul posto anche una squadra dei pompieri di Maniago e l'elisoccorso regionale che ha trasportato il ferito in condizioni serie in ospedale. Rimaniamo nella destra a tagliamento per fornirvi ulteriori particolari rispetto all'indagine portata avanti dalla polizia di Pordenone un cittadino albanese di 32 anni è stato fermato perché sospettato dalla squadra mobile della Questura di essere responsabile di nove furti commessi in abitazione tra il 3 e il 20 novembre. L'uomo, irregolare in Italia e con precedenti specifici proprio per reati predatori commessi in abitazione e ville era capo di una banda operativa tra le province di Pordenone e Treviso. L'uomo accusato di furto aggravato sarà ora espulso dall'Italia. La complessa attività di indagine era partita da una serie di furti in abitazione furti aggravati il primo dei quali commesso la sera del 3 novembre a Pordenone per un valore complessivo di oltre 1000 euro in gioielli. I colpi sono stati commessi sempre nelle fasce serali e hanno fruttato al gruppo criminale circa 60.000 euro in denaro con tante preziosi orologi e lingotti in oro. Le perquisizioni hanno interessato l'auto e due mobili in uso all'indagato a Pordenone e a Vazzola in provincia di Treviso dove gli agenti hanno operato assieme al personale della squadra mobile di Treviso. E a proposito di furti, i reati predatori sono sempre in aumento sul territorio e crescono anche le innovazioni tecnologiche sul fronte della prevenzione. Una delle maggiori ditte impegnate proprio nella soluzione di questi impianti di videosorveglianza è la Dome di Martignacco, stamattina protagonista dell'iniziativa Fabbriche Aperte che è promossa dalla Confindustria Udina. Allora andiamo ad ascoltare le parole del Presidente della società. Il nostro è un settore in continua evoluzione perché ovviamente è molto legato al mondo tecnologico quindi tutte le evoluzioni tecnologiche diventano poi dei cambiamenti a cui bisogna adeguarsi e stare al passo con i tempi. Noi normalmente corriamo dietro non solo alle innovazioni tecnologiche ma anche alle nuove tecniche dei rapinatori o dei ladri in qualche modo e quindi cerchiamo sempre di... è come se fosse un'eterna rincorsa. Noi cerchiamo di essere sempre un passo avanti poi però dobbiamo sempre progredire se no rischiamo di essere superati. Negli ultimi tempi la Regione e gli enti locali hanno messo a disposizione diverse risorse e contributi proprio per le famiglie e le imprese affinché si dotino di questi strumenti preventivi. Avete notato, immagino anche voi, una crescita delle richieste da parte della clientela? Sì, noi rileviamo un'assoluta crescita e tra l'altro riteniamo che questo sia un contributo molto importante. In realtà negli scorsi anni abbiamo sempre visto un aumento della richiesta ma anche un utilizzo abbastanza limitato dei bandi cioè le risorse sono sempre rimaste non completamente utilizzate. Quest'anno il bando riteniamo che abbia ulteriori vantaggi nel senso che non bisogna presentare l'ISEE anche se prima era solo chi lo voleva lo presentava e chi non lo voleva no. È stato ampliato anche le attività commerciali il finanziamento è stato aumentato quindi arriviamo addirittura al 60%. Oggi i comuni che hanno aderito stanno iniziando ad aderire il comune di Udina è stato uno dei primi il comune di Pordenone a breve emanera il bando e noi vediamo che quando c'è l'emanazione di questo bando diciamo c'è un po' più di richiesta. Fondamentalmente noi ci siamo attrezzati ormai da anni per fornire anche la consulenza. Spesso le persone hanno paura che questi bandi implichino dei lavori abnormi in realtà invece è una semplice presentazione della domanda per cui noi siamo ormai attrezzati con i consulenti per predisporre già il bando e questo ci aiuta e aumenta la produzione. Continuiamo con la cronaca. Grave infortunio sul lavoro nell'azienda Topazzini a San Daniele del Friuli che produce e commercializza imballaggi in cartone ondulato. Il fatto è accaduto pochi minuti prima delle 12 di stamattina nello stabilimento di Via Nazionale nella frazione di Villanova. A rimanere coinvolto un uomo al momento ancora di essere definita l'esatta dinamica dell'episodio sul posto è giunto anche l'elissoccorso che ha trasportato la persona con uno trauma da schiacciamento in ospedale a Udine. Nella mattinata di oggi poi i vigili del fuoco di Gorizia sono intervenuti con un'autopompa a serbatoio un autobot e il funzionario di guardia a Pieris per l'incendio all'interno di una abitazione. Si è sviluppato il rogo domato prontamente dai vigili del fuoco all'interno di una legnaia e un cucinino situati in una casetta al pian terreno. Fortunatamente in quel momento gli abitanti non erano presenti all'interno. Sul posto anche i carabinieri. Rimaniamo nell'isontino per l'operazione della Guardia di Finanza di Gorizia che ha portato alla denuncia per truffa aggravata di uno psicologo e un sedicente consulente finanziario residenti nelle province di Venezia e Padova che sono stati rinviati a giudizio in quanto ritenuti responsabili di aver indotto in errore un pensionato goriziano facendogli sottoscrivere un contratto che lo avrebbe obbligato al pagamento di 15.400 euro senza però ricevere in cambio nessun servizio turistico. L'anziano era stato invitato in un hotel della provincia di Udine per ritirare un viaggio premio e valutare l'iscrizione a un club vacanze per beneficiare di ulteriori offerte versando 3.700 euro. Per pagare la quota il consulente aveva proposto anche il finanziamento, la cessione di parte della pensione. Quando il pensionato si è accorto dell'ipotetica truffa aveva avvisato il suo legale che ha contattato la guardia di finanza e si è riusciti così a risalire alle due persone il sedicente consulente finanziario peraltro gravato da iscrizione a ruolo per debiti tributari per oltre 700.000 euro non era iscritto nemmeno all'albo dei consulenti finanziari. Sette condanne a morte questa è la decisione della giustizia del Bangladesh rispetto alla strage di Dacca che il 1 luglio 2016 provocò 22 vittime tra le quali i friulani Marco Tondat di Cordovado e Cristian Rossi di Tavagnacco. I sette miliziani islamici sono stati giudicati colpevoli dal Tribunale del Bangladesh per l'attacco al ristorante Holi Harstam Bakery nella zona diplomatica della città. A riferirlo la BBC Online. I sette sono accusati di appartenere ad una organizzazione islamista. Inizialmente l'attacco era stato rivendicato dall'ISIS ma le autorità locali hanno poi concentrato le indagini sugli ambienti jihadisti del paese. Soddisfazione da parte dei familiari delle due vittime friulane e ora si attende anche il completamento delle istanze di risarcimento previste dalla legge italiana. Lasciamo la cronaca apriamo la pagina dedicata alla politica quella ambientale in particolare se ne è parlato stamattina a Udine nell'auditorium della Regione con un'interessante iniziativa sul PORFESR e sui fondi europei dedicati proprio ai progetti di sostenibilità ambientale. Tra l'altro premiate anche i ragazzi che nelle ultime settimane ma anche nell'aprile scorso si erano impegnati a raccogliere i mozziconi di sigarette tra le strade della città di Udine. Più che un premio è un supporto alla loro attività che è un'attività che non ha connotazioni se non quella di voler rendere un servizio rispetto a quella gestione a livello di comunità che tutti dovrebbero avere nel loro normale prassi nel loro normale prassi di vita quotidiana ovvero cercare di mantenere pulite le nostre aree urbane. Credo che farlo che lo facciano dei ragazzi giovani sia un segnale estremamente importante quindi era giusto anche rendergli un riconoscimento ed è altrettanto vero che questo dovrebbe però entrare nell'immaginario di tutti come una prassi normale e non un'azione che necessita di qualcuno che la faccia. Siamo convinti che questo sia un modello di lavoro efficace che porta i suoi frutti perché lavorare insieme le due autorità di gestione permette non soltanto alle direzioni ma anche a tutti i partner dei progetti europei di poter avere una visione complessiva su un tema come quello della sostenibilità. È un metodo che noi vorremmo replicare anche in futuro con la nuova programmazione europea per la quale siamo già molto impegnati e quindi cerchiamo di dare il più possibile risposte a 360 gradi lavorando in squadra. A proposito di ambiente foreste che bruciano schiantate al suolo alberi che cadono nelle piazze nelle vie della città la gestione la cura delle foreste sarà al centro di una tre giorni promossa a questo fine settimana a Buttreo dalla Giant Tree Foundation ne abbiamo parlato oggi con il suo presidente Andrea Maroè Inizierà venerdì a Buttreo la prima giornata è dedicata interamente a degli aspetti tecnici che verranno appunto spiegati da una serie di esponenti sia nazionali sia internazionali che verranno a raccontare quella che è la loro esperienza con gli alberi con la gestione delle foreste e con la gestione dell'albero in città perché appunto tutto il convegno verterà proprio su questi due aspetti quindi l'albero all'interno di un tessuto urbanizzato e l'albero invece all'interno di una foresta il più delle volte una foresta dove si vuole recuperare del legno del legname da opera ma anche si vuole utilizzare per tutti gli altri scopi ecologici che una foresta ci dà l'idea è proprio quella di spiegare da una parte ai tecnici quindi il venerdì con una giornata anche piuttosto piena piuttosto densa di eventi e invece il sabato sabato sera dalle 18 fino alle 21 a tutti coloro che vorranno o che si appassioneranno all'argomento raccontare appunto in maniera un po' più divulgativa quelle che sono le problematiche relative agli alberi e alle foreste problematiche che ovviamente sono condizionate anche dai cambiamenti climatici prima della tempesta vaia voi avete fatto un viaggio in Ecuador per cercare di capire anche cosa fanno gli altri in realtà appunto uno degli scopi della fondazione è proprio quello di girare il mondo per conoscere gli altri alberi conoscere e tutelare i grandi alberi perché poi ricordiamoci che sono i grandi alberi quelli che sono i padri della foresta e quelli che possono gestire meglio quasi degli umani la foresta stessa e quindi siamo andati a cercare in Ecuador appunto anche qui i giganti proprio prima che cominciasse poi la devastazione che c'è stata con gli incendi ma che poi c'è stata anche in Siberia che adesso c'è in Australia quindi il problema della deforestazione voluta dall'uomo non voluta perché dovuta a agenti climatici è comunque un problema importante e anche nel nostro territorio appunto la tempesta vaia ci ha un po' dato le avvisaglie di questo processo che sta evolvendo molto velocemente e verso il quale dobbiamo prepararci anche noi in maniera piuttosto veloce polemiche nel mondo della scuola in Friuli Venezia Giulia stamattina è arrivata la notizia che Daniela Beltrame sarà il nuovo dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia andrà a sostituire Patrizia Pavatti Beltrame originale del Friuli aveva già ricoperto lo stesso incarico dal 2009 al 2014 ma a lamentarsi di questa decisione l'assessore regionale all'istruzione Alessia Rosolen nessuna comunicazione ufficiale tra Ministero e Regione nessun contatto con l'ufficio scolastico regionale da mesi lasciato in una condizione di precarietà destabilizzante e logorante stamattina la dottoressa Beltrame ha sostituito la professoressa Pavatti nel ruolo di direttore dall'insediamento del nuovo governo dice Rosolen le comunicazioni del MIUR hanno iniziato a latitare su ogni fronte quanto successo poche ore fa evidenzia modalità molto irrituali che vanno ad acuire criticità già evidenti e ancora l'assessore all'istruzione aggiunge c'è incredulità imbarazzo per le modalità che infrangono qualsiasi protocollo istituzionale servono chiarimenti urgenti sull'ufficio regionale sul ruolo del suo direttore il percorso di regionalizzazione intrapreso nei mesi scorsi e poi misteriosamente scomparso secondo quanto riferito recentemente da un ministro sottolinea Rosolen la nomina di due commissari della commissione paritetica sarebbe molto vicina l'unica strada è il lavoro serio e finalizzato al bene del comparto l'unica condizione è che i rapporti se non amichevoli siano quanto meno contraddistinti dal rispetto che istituzioni e contesto richiedono ha concluso l'assessore regionale all'istruzione polemiche anche in città a Udine perché ne abbiamo parlato anche ieri c'era stato un iniziale rinvio rispetto al rimpasto di giunta annunciato da Fontanini ed oggi sono arrivate le comunicazioni ufficiali ai due assessori che il sindaco ha deciso di cambiare ovvero la Perissutti assessore al decentramento e Pizzocaro assessore allo sport ai quali è arrivata proprio oggi la lettera di revoca delle deleghe e al loro posto arriveranno Giulio Manzano e Antonio Falcone ma a scagliarsi proprio contro queste lettere inviate oggi dal sindaco Stefano Salmè che è il rappresentante della lista a cui fa capo l'assessore Perissutti siamo Udine che ha supportato Fontanini nella sua elezione che è andato giù duro contro il primo cittadino definendolo un piccolo badoglio queste le parole di Salmè in una nota diramata proprio quest'oggi con la decisione del rimpasto Salmè parla di tradimento alle 12.30 la nostra rappresentante ha ricevuto la revoca delle deleghe e la lunga carriera del sindaco Fontanini viene così macchiata dall'onta del tradimento e sicuramente le reazioni continueranno dal comune di Udine al consiglio regionale della Friuli Venezia Giulia o meglio del suo presidente Piero Mauro Zanin che oggi era impegnato a Ljubljana in Slovenia per un incontro istituzionale dedicato alla collaborazione tra la nostra regione e lo stato confinale ascoltiamolo è sicuro che il modello europeo come l'abbiamo conosciuto ha segnato delle difficoltà in ordine alla comprensione delle proprie azioni da parte dei cittadini ritengo che però la risposta alla difficoltà dell'Europa non sia l'esaltazione e la richiudersi all'interno dei confini di uno stato perché credo che questo faccia la debolezza dello stesso stato ma credo che necessariamente l'Europa possa ripartire da quello che stiamo facendo oggi noi insieme al presidente Zidane e alla comunità slovena cioè un rapporto costruttivo di collaborazione in una visione di insieme diversità insieme in Europa l'Europa delle comunità e dei popoli partendo da questo si capisce che non esistono più minoranze se parliamo di comunità non esistono più minoranze e dobbiamo immaginare quindi che siamo piccole comunità all'interno delle singole realtà territoriali e allora su questo ho già garantito l'interessamento da parte del Consiglio regionale affinché ci sia una reciprocità di rappresentanza così come avviene in Slovenia per la minoranza italiana anche in regione tra l'altro in parte già avviene per la minoranza slovena ma ci faremo parte attiva perché questo possa essere anche recepito a livello nazionale a proposito di Europa via libera dal Parlamento europeo alla Commissione europea targata Ursula von der Leyen i sì sono stati 461 157 i contrari 89 gli astenuti la Commissione von der Leyen fa meglio di quella del predecessore Jean-Claude Juncker che nel 2014 ottenne 423 voti a favore 209 contrari sono molto lieta ma sento e mi sento onorata da questa maggioranza travolgente ha detto la Presidente eletta dopo l'ok non vedo l'ora di iniziare a lavorare ha detto poi Ursula von der Leyen in conferenza stampa il fatto che oggi siamo in grado di avere un'ampia maggioranza stabile aggiunto la considero come un voto a favore di un'agenda del cambiamento sono convinta che la migrazione sarà un fenomeno che resterà il nostro ruolo in quanto Unione Europea è quello di sviluppare un concetto globale per affrontare la migrazione aggiunto la migrazione va trattata in modo umano ed efficace ed esaustivo ogni Stato membro dovrà mostrare solidarietà e affrontare tutto l'argomento in toto ed ora dovremo essere pronti ad aprire la nostra pagina sportiva con il nostro Jacopo Romeo per fare il punto della situazione sui bianconeri che oggi sono ritornati in campo al Bruseschi per la preparazione in vista della sfida contro la Lazio di domenica all'Olimpico un appuntamento al quale la formazione di mister Gotti vuole arrivare determinata per riscattarsi subito dalla sconfitta patita domenica Amarassi contro la Samp buon pomeriggio Jacopo ben ritrovato ciao ciao David un saluto a te un saluto ai nostri telespettatori da casa preparazione che è ripresa ed è anche finita perché la giocata del lavoro si è chiusa proprio in questi minuti al centro sportivo Bruseschi ripresa dopo il giorno di riposo di ieri con due allenamenti Udinese che è scesa in campo questa mattina alle 11 però diciamo che si è concentrata esclusivamente sull'aspetto atletico lavoro in palestra e poi dei test svolti al Bruseschi al pomeriggio invece si è conclusa proprio in questi istanti ve l'abbiamo mostrata durante pomeriggio calcio la seduta tecnico-tattica nella quale la squadra si è soffermata con mister Luca Gotti e con il suo staff nella marcia avvicinamento a iniziare a preparare la sfida contro la Lazio si è lavorato sul possesso palla esercitazioni specifiche a campo ridotto anche sull'uno contro uno con delle partitelle mini partitelle svolte tra due giocatori da una parte due giocatori dall'altra e poi le classiche partite a campo ridotto a tema gruppo al completo con le eccezioni di Ken Sema è chiaro che il recupero di Sema viene valutato giorno dopo giorno in vista della Lazio è difficile lo stiamo dicendo già dalla scorsa settimana ci si vuole provare però è chiaro che il giocatore rimpermane a forte rischio per la sfida contro il Bianco Celesti eppure quest'oggi è tornato a lavorare sul campo seppur individualmente quindi lui già aveva iniziato nei giorni scorsi a fare qualcosa in palestra adesso è tornato a lavorare anche sui campi del Bruseschi quest'oggi nella tarda mattinata è un primo segnale importante un primo segnale incoraggiante per esempio la settimana scorsa Pussetto che aveva un infortunio aveva un problema che gli era occorso due settimane prima dopo due allenamenti e mezzo alla fine è stato gettato anche nella mischia a Marassi non possiamo sbilanciarci e dire che questo accadrà per sé ma l'udinese lo valuta giorno dopo giorno e spera di riaverlo magari già perché no nella sfida contro Lazio però dobbiamo dire che è uno scenario molto molto difficile al momento nonostante lui si stia impegnando tantissimo così come lo staff che lo segue e lo valuta quotidianamente queste sono un po' le notizie che arrivano da questa giornata di lavoro il lavoro dell'udinese David che proseguirà domani con l'unico allenamento di giornata fissato per il mattino alle ore 11.30 a te grazie grazie Jacopo per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti sui bianconeri vi rimandiamo all'edizione delle 19 con anche il punto sui principali fatti di giornata buon proseguimento su Dinese TV grazie a tutti